Musica Buonasera e benvenuto all'Onorevole Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione Univerde. Grazie di essere qui con noi. Bentrovati. Allora partiamo dalla stretta attualità, ormai insediato il governo Letta, chiaramente presto per dare dei giudizi, però possiamo sbilanciarci con delle previsioni. Quanto durerà questo governo? Dipende, credo che visto che vogliono fare la convenzione per fare alcune modifiche costituzionali, tra l'altro io credo che alcune sono necessarie, tipo ridurre il numero dei parlamentari, differenziare Camere e Senato. Se riescono a varare la convenzione che ha come ipotesi durata 18 mesi, il governo credo che alla fine dovrebbe durare almeno due anni, perché se fanno partire questo e crollano prima e si presentano agli elettori senza essere stati nemmeno capaci, con una maggioranza così larga in Parlamento, perché hanno una maggioranza vastissima, di fare quelle minime riforme istituzionali su cui tutti si sono impegnati, arriverebbero con un fallimento davanti agli elettori. Quindi tenteranno di durare almeno due anni. Ha fatto molto discutere la composizione di questo governo, di fatto è un governissimo, le piace? A me no, perché io alla Camera ho votato per Grillo, al Senato ho votato per Sinistra, Ecologia e Libertà, entrambi i partiti che ho votato stanno all'opposizione, ovviamente io li ho votati perché alcuni parlamentari di quei partiti sono gli unici che hanno sottoscritto il mio appello per un'economia, una società verdi, che io ho fatto un appello insieme a Carlo Petrini, a Germi Rifkin, a personalità della cultura e dell'ambientalismo e quindi ho votato per i contenuti, i contenuti ambientali, quelli per cui per anni io ho fondato Prime Verdi e poi ho lavorato e continuo a lavorare con la Fondazione Univerde, quei contenuti sono in gran parte rappresentati da quei 200 parlamentari eletti nel Movimento 5 Stelle in Sinistra, Ecologia e Libertà, che stiano tutte e due all'opposizione, il segno di come questo governo sui grandi temi ambientali dell'innovazione è un governo vecchio, quindi non è tanto che è governissimo, culturalmente non una parola sulle energie rinnovabili, non qualcosa sulla riconversione ecologica che dovremmo realizzare, non c'è niente che ne so su un'agricoltura innovativa che ormai è la base del futuro, quindi un governissimo ma in una chiave ancora vecchia, di vecchia industria, vecchia industrializzazione, cioè non vedo modernità e innovazione, dopodiché ci sono alcune persone per bene, alcune che spero possano fare bene, quindi non è che sono dei mostri, però sicuramente non sono il futuro, sono ancora un governo del passato. Sulle pagine dei giornali abbiamo letto un suo attacco al Ministro Zanonato dopo un'apertura al nucleare di fatto di questo governo, però è leggermente smentita, poi ha un po' corretto il tiro al Ministro Zanonato. Sì, ma più che attacco è che io sono proprio desolato, nel senso che, come dire, io ho fatto il Ministro dell'Ambiente tra il 2006 e il 2008 e avevo nominato alla Presidenza della Commissione di Valutazione e Impatto Ambientale Stefano Rodotà, di cui adesso qualcuno finalmente pare si ricordi, ma all'epoca credo di essere stato l'unico esponente del centro-sinistra a pensare che Rodotà era ed è una grande personalità di questo paese. Avevo come consulenti gratuiti, perché hanno fatto gratis, Carlo Rubbia per il solare termodinamico, Jeremy Rifikin per la economia industriale, Maurizio Pallante sul tema della decrescita felice, Alex Zanotelli e il professor Petrella mi hanno aiutato nella campagna sull'acqua e quasi tutti gratuitamente, quindi questo era il livello di personalità e di scelte. Certo, se dopo di me io vedo che la Prestigiacomo sceglie il nucleare, il mio ex direttore Clini, la prima gaffa che fa appena si insiede come Ministro dell'Ambiente, dice che il nucleare sarebbe buono e anche gli OGM non sono male. Entra il governo Letta e Zanonato, appena eletto dice che tutto sommato il nucleare, poi è chiaro che non lo faranno perché non sono in grado, il popolo le ha bocciati, quindi sono cose sballate. E allora perché queste provocazioni? Ma non sono provocazioni, sono una dimostrazione della inadeguatezza culturale di queste persone, ma con tutto il rispetto, perché poi Zanonato l'ho conosciuto come sindaco di Pato, ha fatto anche delle cose buone, quindi non è che io non ho stima sulla singola persona, non è che dico... però il problema è che proprio pensano ancora con categorie vetuste. Cioè perché tu invece di dire che l'Italia deve diventare il leader del solare nel Mediterraneo, avendo realizzato centomila posti di lavoro sul solare, e invece la prima cosa che ti viene in mente è dire che il nucleare potrebbe anche... è sbagliato in questo senso, perché è chiaro che lui l'ha detto come provocazione, sa perfettamente che non lo farà, poi l'ha smentito, quindi diciamo è voce dal senfuggita. È un modo di strizzare l'occhio a qualcuno forse, onorevole? Io non lo so, spero non sia questo, ma se anche non è il modo di strizzare un occhio, ma è come dire una specie di moto dell'anima, io vorrei finalmente dei ministri che come moto dell'anima amano il sole, la natura, la possibilità che ci dà madre terra di avere energia non inquinante e gratis, piuttosto che andare a richiamare le vecchie energie fossili, perché poi questi il nucleare non lo fanno, però poi il carbone lo vogliono fare. Ecco, a tal proposito, sulle pagine dei giornali, restiamo sulle pagine dei giornali, proprio l'inserto Affari e Finanza di oggi parla delle centrali a carboni e c'è anche lì un Alfonso Pecoraro Scania molto perplesso. No, io Affari e Finanza hanno lanciato in anteprima i risultati di uno studio che noi presentiamo l'8 di maggio, quindi in questi giorni, al Solar Expo di Milano, ed è uno studio fatto insieme a IPR Marketing, io in questi anni, sono cinque anni che faccio ogni sei mesi un rapporto sugli italiani e Solari insieme a IPR Marketing di Antonio Noto e siamo arrivati al nono rapporto e questa volta abbiamo fatto un focus sul carbone, ebbene gli italiani sono per una percentuale enorme, devo dire al di sopra delle mie ipotesi, quindi per un 80%, favorevoli a chiudere tutte le centrali a carbone italiane entro il 2020 e ovviamente anche quelle a olio combustibile, e io credo che dovremmo farlo, perché se noi cresciamo nelle rinnovabili dobbiamo iniziare a chiudere le centrali più inquinanti, che sono quelle a carbone e quelle a olio combustibile. Onorevole, possiamo definirla un grillino oggi, si offende se lo diciamo? No, no, a parte che non mi offendo, ma si offendono i grillini che giustamente dicono che sono un movimento 5 stelle. Io conosco Beppe Grillo da anni, nel 2003, io devo dire che lui fu molto gentile perché venne ad appoggiare, la prima iniziativa politica che lui appoggiò fu il referendum contro l'elettrosmog che noi promuovemo come Verdi, poi mi aiutò nella campagna dandomi un video da usare gratuitamente, quindi non è vero che faceva solo le cose a pagamento, il video a noi ce l'ho detto gratuitamente per diffondere durante l'Europa del 2004 queste iniziative. Quando sono stato Ministro dell'Ambiente è venuto da me in ufficio, mi ha indicato Maurizio Pallante come consigliere per la decrescita felice ed è stato vicino a queste battaglie, quindi diciamo come Grillo ha sempre sostituto le cose quando erano quelle giuste che io facevo, oggi mi sembra giusto che debba sostenere e sostenga una forza politica che ad oggi è il più grande partito verde al mondo, perché l'unico partito al mondo che ha il 25% e che si pone 100% rinnovabili, no inceneritore e raccolta differenziata, no al super tunnel della TAV ma investiamo sulle opere pubbliche utili, no al ponte sullo stretto ma investiamo... cioè ha esattamente il programma dei Verdi, perché io non dovrei sostenere una forza politica che nei contenuti, cioè nelle cose a queste posizioni, mi sembra ovvio. Chiarissimo, ma i Verdi invece che fine hanno fatto? Ma i Verdi secondo me hanno vissuto un loro periodo storico, li abbiamo fondati negli anni 80, siamo arrivati in questo paese a fare molte riforme importanti, la legge sui parchi l'abbiamo fatta noi, abbiamo realizzato, io ho fatto la riforma dell'agricoltura, se oggi abbiamo i farmer market, l'agriturismo, l'agricoltura multifunzionale nasce con la mia riforma del 2001, così come nel 2007 ho fatto il conto energie, se oggi in Italia abbiamo il solare è grazie a quello, questo è grazie non a me, è grazie ai Verdi che sono stati determinati in quella fase storica e poi sono trasformati ormai in un movimento culturale, io resto ancora iscritto perché io sono uno che si vanta di essere iscritto allo stesso partito da più di vent'anni, in un paese dove ognuno cambia partito ogni minuto, però è chiaro che non essendoci più i Verdi in chiave elettorale, queste elezioni avevano fatto questa lista con ingroia, ma non c'era il simbolo dei Verdi, non c'era più una storia, è chiaro che io guardo i contenuti e quindi ho sostenuto quelli che sono più vicini e Sinistra Ecologia e Libertà, la De Petris che oggi è presidente del gruppo al Senato misto è un esponente verde, poi oggi opera dentro Sinistra Ecologia e Libertà e non è che posso dire che non è De Verdi. Onorevole, lei oggi è presidente della fondazione Univerdi, quali le prossime iniziative in agenda? Innanzitutto ho dato vita a questa fondazione insieme a Gianfranco Amendola che è un magistrato importante ambientalista in collegamento con le realtà di Jeremy Rifkin e proprio all'8 di maggio presentiamo il nono rapporto sugli italiani e il solare al Solar Expo, il 4 di giugno faremo una conferenza a Milano insieme all'Agenzia del Demanio sul tema del green building, le nuove costruzioni verdi, il 18 giugno, se è invitato, facciamo con la Coldiretti la presentazione del terzo rapporto sugli italiani e l'agricoltura, a luglio presentiamo da Napoli con Marevivo la terza edizione di Mediterraneo da Remare che è una campagna per difendere il Mediterraneo e fare una moratoria delle trivellazioni petrolifere e due settimane fa abbiamo presentato il 22 aprile la quarta edizione di Obiettivo Terra che è la più grande mostra fotografica a sostegno dei parchi italiani che si fa col Patronato del Presidente della Repubblica. Abbiamo visto un grande successo di pubblico, onorevole, mi fanno brutti segni dalla regia, abbiamo sforato, dobbiamo chiudere, noi la ringraziamo di essere stato qui con noi e contiamo di riaverla presto. Vi chiamate Rete Sole quindi in qualche modo devo per forza sostenere. Andiamo d'accordo, andiamo d'accordo, grazie davvero. Grazie.